Nel corso della settimana dell'accoglienza sono in programma anche due appuntamenti per riflettere sul tema delle adozioni e degli affidi, in particolare con un film e una serata. Il film è proprio in questi giorni e che titolo avete scelto? Il film che verrà proiettato giovedì sera è uno dei film più simbolici dell'adozione, è quello che a me piace di più, quello che preferisco. Si chiama Vai e Vivrai, è un film interessante che racconta una storia di un bambino che viene adottato da una famiglia israeliana. Al di là dell'aspetto cinematografico che poi verrà affrontato quella sera, mi piace sottolineare due cose. La prima cosa che è uno dei pochi film che parla in modo positivo dell'adozione, perché spesso i film tratteggiano l'adozione come qualcosa di difficile, come qualcosa di pesante, oppure ne parlano quando c'è qualche scandalo. Vai e Vivrai invece racconta una storia difficile, una storia importante, ma in termini positivi. E questa è una cosa che a me piace molto, perché credo che l'adozione sia un racconto di un'esperienza importante e positiva. L'altra cosa che vorrei sottolineare è che questo film racconta una storia complessa, ma con tanti significati. E credo che sia davvero un approccio molto interessante e molto importante per chi si vuole avvicinare a questo tema in modo sereno, per cui non vedrete un film drammatico, un film... ma vedrete un film che vi fa riflettere e che vi aiuta a capire bene questa realtà. Per cui darei l'appuntamento a giovedì sera al Cinema Garden, sperando davvero una partecipazione numerosa. Lunedì 18 aprile alle 20.45, sempre in oratorio a Clusone, in Aula Magna, invece una serata per parlare di? Allora, per parlare sempre di affido e di adozione. La serata si inserisce dentro la settimana dell'accoglienza, che inizia esattamente giovedì 7 aprile, che avrà la conclusione il 18 aprile. Si parlerà di esperienze, di esperienze di persone, di famiglie, che all'interno del nostro territorio vivono queste situazioni di affido, un affido temporaneo, di affido giornaliero e anche di adozione. Le realtà sono diverse e sono delle testimonianze di accoglienza, di apertura delle famiglie a riguardo di queste tematiche. Le serate sono organizzate dall'associazione Genitori Si Diventa, che si occupa di adozione, e dall'associazione Aiutiamoli a Vivere, che si occupa dei bambini bielorussi.